mi interessa fare a colpette più nemici possibili che sono abbastanza fragili singolarmente sono tutte e due in live, salutami questa terra è vera ogni città, ogni città è vero, il duke wow, questo planeto è come una luna, è una terra di terra che vengano, che combattano, che affrontino l'insormontabile potenza degli Helltizer oh god risolvere risolvere ok, questo è morto neanche il tempo di cominciare, ci sono i primi morti, ragazzi ah, ma dove arriva questo figlio di buttana WTF die bug how the fuck do you then live this shit oh, they spit shit oh, they spit shit ok, cat ah, i have my fucking railgun ah, you splitting piece of shit oh no the graphics is bugged fuck honestly, this game has a lot of bugs nice fornimenti andiamo la posizione north-nove select bag della posizione nord-ovest bag della mappa nord-sput sud-aum Ok volete andare di là Andiamo di là Ok ti ringrazio Ti ringrazio Zico Se me lo ricordo Perché ogni volta me lo dimentico Oh cazzo Ma mortacci tuo figlio di puttana No no Ragazzi giusto per cos'è Che cazzo ci siamo venuti a fare in questo posto Salve Perché tutto quello che mi colpisce Mi fa decollare Sto pianeta è strano Maledizione Ho fatto un sacco di missioni Con gli insetti È il primo pianeta dove Dove vengo sballato a destra e a manco Ancora Ancora Run you fucking idiot of a man Shit Shit By the love of mercy Fucking die Oh dios Perchè ha ribaldato indietro Minchia sto andando Salve Invisible fuckers Ragazzi scusate se non leggerò la chat Però come vedete Questo gioco è molto facile che ti porti Un Deve essere Un Momenti proprio concitati Ci deve essere comunque qualche molus particolare in questo pianeta Perchè sto andando che Si decolla molto Molto velocemente Chiedo supporto aereo Segnalo posizione Il Helldiver non vuoi Breccia degli insetti Rifornimenti Pesante Sud ovest 50 metri Inviate un eagle Affermativo Chiedo dei rinforzi Inviate un eagle Vi chiedo attacco orbitale Ricarico E resta giù Rifornimenti Ragazzi si è buggato il gioco Se vedete la grafica È al punto buggata Eh che cazzo Sei morto Ok Fuck you You penis Are you kidding me Another shit fucker Arma scarica Per la libertà In mio braccio Chiato dei rinforzi Burn them all These fucking vomitoid are annoying Red è andata Come si Come si Come si ragazzi potrebbe onestamente crashare il gioco quindi tenetelo presente perché mi è già capitato che i colori si sballassero in questa maniera e poi niente semplicemente il gioco crash quindi tenetelo presente questa cosa potrei crashare da un momento all'altro duko spero che non scrivi troppo perché non so se posso leggere tutto protect my ass we need fucking ammo that red for hitting zamb guardate la mappa su test too many bugs in this shit breccia degli insetti libertà per sempre arma scarica mi chiedo una stai davvero una fanculo merda tenere posizione vedante su test 50 metri guardate la mappa di rifornimento fuori fia di buttana porca puttana ma quanti cavolo sono sti bombardiere no sono contro gli insettoni non ti permetto di spararmi quella merdaccia verde scatena scatena go baby riorno dobbiamo assolutamente chiudere questo buco di culo di posto non continuano ad arrivare queste merda questo posto è come viene fatto rappresentato l'imperno praticamente ho finito le granate distruggi sta cazzo di buco frank ok are you kidding me big guy si ragazzi più rimaniamo per me qua più ne arrivano dobbiamo muoverci i'm sorry duke i don't know why it doesn't work my channel is uh is in this gray state oh my god look that is a fucking barbaric orde is a fucking barbaric orde is a fucking barbaric orde surprise surprise oh merda is a fucking barbaric orde 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 non le granate ragazzi dovete farlo voi Libertà! Affermativo! E resta giù! Richiesta rifornimenti! Grazie! Affermativo! Cosa andai facendo quei due? Ah, non ce la trovo! Rifornimenti! Rifornimenti! Ho visto da mio amico i robottoni sono difficilissimi perché ti inseguono per tutta la mappa. Vabbè, tutti i nemici più o meno ti inseguono per tutta la mappa. Comunque sì, i robottoni sono molto più difficili degli insetti. Ne ho sterminati a IOSA. Ho messo qualche episodio sul tubo delle mie missioni contro i robottoni. Questa è la mappa, ovvero. Affermativo! Questa è la mappa, ovvero. Affermativo! Inviate un Eagle! Inviate un Eagle! Metto un segno, Ovest! Allora io ho tipo due bombe a mano Non so se riuscirò a chiudere questa buca da solo Vorrei aspettare Guardi quella, la passione con questa merda mi sta inseguendo Supporto aereo Paraggio bot, stermine i nemici da per mano mia Il mio conto Non fare caso, uombe Porca puttana hanno fatto caso a me Ma quanti cazzo siete? Cristo santo Chi mi sta chiamando? Chi o sa evoccarmi? Ok Mi ha evocato dalla parte giusta Non riesco a vedere un cazzo ragazzi Mappa missione aggiornata Sì, lo vedi tu? Io no Ah, eccolo Cristo Vomitoid Chi non l'hai lanciato? Inviate un eagle Non vedo niente Maledizione Move you fucking idiot Give this grace of a man Oh god Mio dio ragazzi Non si vede un cazzo No, non ce l'ho Nessuno dei miei amici Mineral Divers Ditemi dov'è il nemico Segnala posizione Buca insetti in sud Cristo Innamori Faccia di culo di minzetto Perché c'è tutta sta merda In questa buca? Chiado dei rinforzi Richiesta approvata Dispiegamento rinforzi Diver a rapporto al fronte Sporcio per la causa La libertà richiede potenza di fuoco Mette un segno Nord ovest Dark della mappa Nord ovest Mette un segno Mette un segno Ovest Ok Allora Allora Se doni i bit Sono soldi Che poi Mi paga Twitch Quando raggiungo La soglia Dei 50 dollari Se mi fai invece La donazione diretta Mi arrivano direttamente Sì C'è qua la differenza Però se A volte può capitare Che magari Twitch Mette i bit In sconto Quindi Ci sono momenti In cui può essere Relativamente più conveniente Prendere i bit Rispetto a Pagare direttamente Magari uno streamer Ma Penso che siano D'eccezioni Bastanza rare Lancio granata Acquisito campione Rai Ammioro la polizione Richiesta di attacco orbitale Ricarico Rinforzi Tag della mappa Ovest Tag della mappa Nord-Ovest La parte della mappa È brutta Perché non si vede niente Vedete Oh god Mio dio Quanti cazzo siete Sono l'aserattore Che mi spara addosso A me I helldiver Non fuoiono mai Ma va Fancolo Fottete Gli stronzi Che bello Che bello Alveare di termini Di sotto Oh thank god Finalmente si riesce a vedere qualcosa Penso io al terminale Mi senti Attivo il terminale Ok la valvole Ragazzi Ok la valvole ragazzi Obiettivo individuato Nord-Ovest Mette un segno Nord Obiettivo individuato Nord-Ovest Affermativo Non gliene frega niente Della missione principale A questi M'hanno lasciato qua Maledizione Ci penso io Se non ricordo male Cento bit Sono un euro Vorrei dire strunzate Ma Dovrebbe essere così Ogni cento bit Sono tipo un euro Facciamo progresso Eh si Facciamo progresso Mi pia pure per il culo Questa stronza Ok Questi mi devono aver grattato Le samples Che erano qua Che cazzo Stanno cambiando Ragazzi Andiamo Basta giocare Con questi perdenti Andiamo a chiudere La missione Spero che non crashi la partita Perché Questo glitch grafico Diventa fastidioso Ah ok Quindi Sì perché A me Io sono sicuro Che a me Entra un euro Con cento bit Quindi probabilmente Sarà 50-50 Cioè Un euro Lo prende Twitch Un euro Lo Lo prenderei io In questo modo Con l'abbonamento Dipende L'abbonamento pagante Mi viene pagato Meno di quello Prime Con Prime Prendo La metà Mentre Con Con Se invece Lo paghi Prendo meno Della metà Non so Quale sia il criterio Questa cosa Però Così Sì E tu pensa Che non prendo Tipo 2 euro E 50 Prendo molto Di meno Mi pare Me lo contano A un euro E 80 Una cosa Così In linea generale Comunque Twitch Molto zaffo Vabbè ma Penso sia una cosa Di tutte le piattaforme Non è solo Twitch Cioè nel senso Non fa un 50-50 Fa Ha un sistema di calcolo Tutto su Che non Non capisco Ah Chi è che mi ha sputtato Sto robottino È tutto strano A volte A volte Vede i nemici E non gli spara A volte Invece Li vede E non gliene frega niente No Questo intento Lo prendo Sto caricatore Ah ma salve Shit Cristo santo ragazzi Siete la mia rovina voi Sto timbo maledetto Oh cazzo Oh merda siamo senza rinforzi E mica mi ero accorto Devo trovare la mia railgun Altrimenti non posso ammazzare questo bastardone Ti prego Cazzo Cazzo siamo fottuti Minchia ce ne sono due addirittura Run Minchia siamo a rischio fallimento missione Penso che Saintox sia pure impanitato Ma non ti preoccupare Zigo figurati Conservate i soldi Non li spendere su Twitch In particolar modo non li spendere per me Mi rinforzi Certamente due titan così vicini È stata una Una bastardata allucinante Mancano cinque minuti La libertà accelera il tuo passo Dai fatele a pezzi ragazzi Ultima carica Chiedo supporto aereo Oddio altri nemici Che è successo Ma che cazzo Ah ma è il mio corpo Ma cosa è il mio busto Il mio busto volante Ma cosa Ma cos'è questa cosa Dove sto andando Il mio busto Oh god I'm coming to another dimension Mi sto allontanando tantissimo dalla mappa Noi stiamo scoprendo cose nuove Dove sono ragazzi Io spero che il prossimo rinforzo sia io Perché sto Sto andando a trovare gli sviluppatori Cazzo B3 è il prossimo B3 è il prossimo Io sono Se ho la fortuna di rientrare Rientrerò tra Tra un minuto e mezzo Arriba Zaino Tattico Inviate un eagle Questa era una cosa che decisamente non mi aspettavo Di giocatori Sì Miracolo Sono rientrato Oh cazzo Sono rientrato Manca un minuto Partenza del destroyer imminente Richiedo un attacco orbitale Inviate un eagle Dite ciao alla democrazia Cazzo salta Maledetto uomo Salta Ciao 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 Ma lo fermo sto bastardo Un minuto e trenta secondi all'arrivo Ok Perlomeno abbiamo completato la missione Questa è già una cosa positiva Devo provare a scappare Questa è già un minuto e trenta secondi all'arrivo Siamo troppo lontani Non so se ce la farò 10 secondi all'arrivo Liberare l'area Pelican 1 in arriva Le coordinate Atterraggio pelican 1 in corso Contro la rovescia iniziato Pronti al decollo Sce Rosen Pelican 1, aspettiamo, siamo qui F*** you Pelican 1 F*** you Almeno abbiamo portato a termine la missione Almeno sono riuscito a salvare la partita ragazzi Perché rischiavamo di fallirla totalmente Saint, Code e Nick and Crow Prima sono bloccati in questo pianeta Ma portarono a termine la missione fino alla fine By the love and mercy Allora ragazzi appena finisco quest Riavvio il gioco perché come vedete Si vede un cazzo Dove togliere sto bug grafico Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti